Stanno per partire anche i giovedì a Savona, un appuntamento ormai noto, però lo ricordiamo un po' di che cosa si tratta e come sarà la partecipazione anche dei commercianti e di tutta Savona? Sì, negli ultimi due anni è stato un crescendo, un crescendo di partecipazione, i commercianti hanno messo veramente tanto entusiasmo e tutti gli anni abbiamo più punti musica, ricordiamo che tutti i punti musica che troverete in città sono tutti offerti, tranne quello istituzionale del comune in piazza Sisto, invece tutti gli altri sono offerti dai commercianti delle varie vie che hanno voluto animare le serate, quest'anno sono veramente tanti, sono quasi 90 punti musica nei quattro giovedì per cui veramente la città sarà ancora più viva, ancora più frizzante speriamo e niente ci sono i negozi aperti, ci sarà chi farà da mangiare, chi farà musica, insomma come sempre le aspettative sono alte, speriamo che il tempo regga e sia una bella serata per tutti.